questo è il fiume isonzo nasce in val 30 più o meno a 30 chilometri a nord di qua e scorre per 136 chilometri e sbocca in italia nel mar adriatico effettivamente vicino a monfalcone davanti all'isola della cona e però vorrei vorrei saperne di più perché ha questo colore cosa si può fare da un punto di vista diciamo così sportivo sul disonzo io bisogna che che fermi qualcuno che sa passerà qualcuno di qua hello excuse me ecco venga venga buongiorno oh buongiorno parla italiano buongiorno ciao aspetta aspetta che ti fermo un attimo perché qui la corrente la corrente è forte aspetta che ti do una cintura di salvataggio ecco qua a questo punto sei ormeggiato buongiorno buongiorno è un esperto del fiume qua possiamo dirle allora perché questo fiume ha questo colore che sembra finto io quando ho visto la prima volta una fotografia ho pensato l'hanno truccato ma è un azzurro incredibile come mai si è così è l'alpe giulia che fanno le montagne si sono le alpi nuove così che un recente un minerale qua dentro che è combinato con le pietre ho capito il calcare il calcare si forma questo colore così che ma che bello che meraviglia poi dicono anche che si rispecchia il cielo di queste zone l'acqua che sgorga direttamente dalle alpi beh il colore l'abbiamo scoperto ma poi è un bellissimo fiume ma ha una storia molto intensa 300.000 morti su questo fiume ma perché cosa è successo qua? eh sì qua c'era la prima guerra mondiale allora la parte degli italiani e austriacchi siano veniti qua insieme e il fiume insonzo faceva da confine diciamo da luogo di battaglia non ha colpa l'isonzo qui hanno colpa gli uomini c'è anche un prodotto tipico mi sembra del fiume giusto? sì la forella marmolata o trotto marmolata la trotta la trotta marmolata l'ho già sentita anche se non l'ho mai assaggiata ma com'è com'è com'è? allora il trotto marmolato è protetto adesso ho capito perché andranno pescando troppo anni e adesso li facciano ritornare alle fiume ho capito perché qui è e anche parco no è tutto protetto di tutto questo qua in giro il parco nazionale di triglau così che di di triglau questa è la montagna più alta della slovenia per me magari no ma per uno sportivo come te dal punto di vista turistico dal punto di vista appunto sportivo cosa può rappresentare il fiume isonzo il fiume il fiume è un paradiso per tutte le sport al fiume così con kayak rafting rafting tutto sono delle rapide anche? sì questa parte qua è un po più lentamente ma qua su è veramente buono e quindi un sacco di sport anche su questo fiume sì non solo il fiume tutte le altre parti si fa il ciclismo il mountain biking così che va bene ho capito tutte cose belle emozionanti un po faticose ecco però anche anche stare con i piedi a mollo nell'isonzo sono soddisfazioni bene come ti chiami? aris complimenti allora niente posso lasciare che tu prosegua ciao ciao ma fin dove vuoi arrivare? fino al tolmino fino al tolmino bravo ancora dieci chilometri dieci chilometri ciao ciao ciao